Facciamo spazio per la consegna del trofeo da parte della società modenese Fiere Corsa e Cavalli. Eccoci pronti, la consegna è avvenuta con bottiglia di rito e con la coppa. Complimenti al driver che adesso... Grande Andrea, il commento tecnico di Giulio Luppi per tutti gli appassionati. Grande tifo Andrea, grande tifo per Andrea Agustinati, Andrea ha interpretato Angela Caff, l'ha improvvisata, non è ancora arrivato Alessandro Gossadoro, tutto bene direi sul percorso, facile al comando, poi dopo hai vinto senza problema. Sì, la corsa era buona, era una netta favorita, Alessandro mi ha detto che l'unico problema è che è una cavalla un po' pigra, di tenerla sempre un po' impegnata. È partita bene, anche i due o tre errori dietro la macchina ci hanno agevolato, nel senso che allo stacco sono da solo, quindi è diventato un match con il cavallo di Vecchione. C'è gli ultimi 800 metri da cavalla di spessore, come poi mi ha detto del resto Alessandro. Sì, ho preso 42.2, 600 finali, quindi insomma una misura di tutto valore. Sì, 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 ma poi ripeto, è una cavalla che è bella, proprio bella, bella da guidare, piacevole, ripeto, un po' fredda, ma più la cerchi e più va. Bene, ti lascio andare Andrea perché so che devi sgambare in fretta. Ciao, grazie. Grazie.